La festa religiosa, se diamo con il sindaco la partecipazione, si rinnova questo dom ideale, questa festa la quale tengono i San Benedetti e non sono? Sicuramente è la festa della città, la festa del padrono, quindi è la festa della città, dei San Benedetti, ma di tutti coloro che si sentono parte integrante di questa città, quindi anche coloro che hanno scelto San Benedetto come luogo per vivere, per lavorare. In merito alla festa del padrono abbiamo diversi eventi, c'è il Campavese, avremo la visita dei nostri cugini di Viareggio che verranno a trovarci con un numero sostanzioso di persone, quindi ci fa anche piacere perché andremo a festeggiare poi il trentesimo anno di gemellaggio, io negli ultimi due anni ho partecipato attivamente alla festa del Carnevale e siamo entrati anche noi nella loro famiglia. Per la festa io sono convinto che gli eventi che sono stati messi in pista sono eventi belli, musicali, di cabaret, di infrattenimento e godiamoci appunto queste giornate di grande festa, ma anche di grande allegria. Grazie Silvio. Grazie. Grazie.